Un'ulteriore intervista con un personaggio che dovrebbe essere molto più conosciuto, secondo me, da tantissime persone, sia perché ha una vita particolare, sia perché ha fatto molte cose per il nostro paese. Comunque siamo qui con Pio Maria Dejana, un grosso ex imprenditore, perché le hanno fatte di tutti i colori e quindi adesso invece ha i suoi problemi, ma è stata una persona che ha visto molto più in là del suo naso, per lo meno di quanto fanno adesso molti imprenditori e moltissimi politici. Cominciamo a raccontare un po' una storia che coinvolge tantissime persone e addirittura tantissimi paesi. Allora, Pio Maria Dejana, dove e quando comincia questa storia lunghissima che continua tuttora e vede politici, uomini di Stato, gente che è morta nei modi più strani e troppo spesso per motivi che non sono quelli che tentano di turlupinarci i telegiornali. Senza andare troppo in là, cominciamo da un morto eccellente, Nelson Mandela. Ma capisco che bisogna andare ai fatti di qualche anno prima. In previsione della situazione che si stava consolidando, la situazione in Angola e con la morte del presidente fondatore della Repubblica Democratica Angolana, il nuovo presidente, Edoardo Dos Santos, stava preparando il dossier per liberarsi dalla presenza delle truppe cubane e straniere e amministrare la vera indipendenza del suo paese. Cosicché durante una mia prigionia in Angola, che ha visto il passaggio tra il vecchio e il nuovo presidente, sono stato visitato da un generale che è Occioa in carcere al San Paolo di Luanda. E naturalmente l'italianito era un puntino insignificante nel contesto di allora, così come lo è sempre stato. Ma ho un paio di orecchie capaci e ho ascoltato un programma politico-militare dove già prevedeva Occioa, e credo che questa sia la ragione per cui poi è stato a seguito ucciso da Fidel Castro, vedeva la necessità di trasferire le truppe, al momento che le avessero dichiarate non più necessarie, nello Zaire, che aveva una grandissima estensione di territorio, libera praticamente da qualsiasi influenza. Quando sono stato liberato all'inizio dell'80, sono stato liberato attraverso l'intervento diretto del presidente Sandro Pertini, sono rientrato in Italia e poi sono ritornato dalla mia famiglia a New York. Sandro Pertini ha però qualcosa di più vicino a lei. Sandro Pertini è intervenuto perché? È intervenuto perché mio fratello, che era vice comandante della Coduri durante il periodo partigiano, si è rivolto al suo comandante partigiano, divenuto presidente della Repubblica, e gli ha detto che c'era suo fratello a Luanda, trattenuto da 15 mesi in prigione, senza nessuna ragione. Naturalmente Sandro Pertini, che aveva intervistato Agostinho Netto, il primo presidente, e per la quale ragione, quando hanno scoperto che ero presente, Agostinho Netto ha chiesto la liberazione, poi perfezionata da Edoardo dos Santos, dalle truppe cubane, è andato a Mosca per chiedere la codifica di questo nuovo protocollo. E' stato ucciso a Mosca, così come era successo al presidente Boumediene. L'ha fatto anche con Agostinho Netto, l'ha ucciso. E Edoardo dos Santos è rimasto presidente e grazie a Dio lo è ancora tutt'oggi. All'epoca stava perfezionando il dossier di Agostinho Netto. Sandro Pertini ha chiesto l'esecuzione degli accordi con Agostinho Netto e era la mia liberazione. Dopo la mia liberazione sono rietrata a New York, dove ho incontrato nell'82, alla fine dell'82, a cavallo dell'82-83, il generale Ariel Sharon, al quale ho raccontato il programma del generale Ochoa in Angola. Sharon in quel momento aveva perso la sua carica politica e stava cercando una nuova strada per rientrare. Nuova strada che, guarda caso, in un ristorante di New York, incontrando questo personaggio, riesce a sapere perché Pio Maria Deiana in pratica gli parla delle rivelazioni che aveva sentito da questi generali cubani sul trasferimento dei cubani dalle basi che avevano in Angola in altre basi che sarebbero state lasciate dagli zaeliani in Zaire. in Zaire dove Mobutu non sarebbe riuscito a contrastarli perché non aveva un esercito altamente efficiente e quindi in questa situazione i cubani e quindi il comunismo sarebbe rimasto in Africa molto più tempo ancora. Assolutamente così, tanto è vero che naturalmente con questa notizia Aria Sharon è rientrato di prepotenza in politica e grazie a Dio lo ha fatto perché ha impedito all'Africa di essere resa comunista come un accordo con Mobutu Sese Seku che a suo tempo è incontrato e mi ha confermato la faccenda prima di lasciare il potere perché poi naturalmente ho conosciuto anche Mobutu Sese Seku che mi ha ricevuto diverse volte sul suo yacht sul fiume Zaire. E lì ci sarebbero altre storie da raccontare ma sarà un'altra intervista. Quando scriverai il libro ti dirà i dettagli. Sarà un'altra intervista. Mi auguro che nei prossimi vent'anni lo scriverai perché i vent'anni sono già quasi passati e stiamo mettendo le notizie insieme a pezzo a pezzo. Comunque Edoardo Dos Santos manda a casa i cubani e c'è qualcuno che riesce a far fare un accordo di pace fra Sudafrica e Angola. Ah no, in questo caso è perché io naturalmente nella mia prigionia avevo conosciuto come in un revolving door d'hotel tutto il mondo politico angolano perché nel mondo comunista certamente che tutti i leader passano dentro in galera un periodo o un weekend. È normale. Quando è arrivato il momento nell'86-87 i sudafricani ancora del governo di W. Botta mi hanno chiesto a Pretoria no, non era Pretoria era Cape Town nel palazzo del presidente di Cape Town di intervenire se avessi avuto delle relazioni per ufficializzare un'offerta di pace del Sudafrica. E io ho avuto la fortuna di avere un leader Daniel Giulio Cipenda che era un vecchio saggio angolano esiliato politico anticomunista che il presidente Edoardo dos Santos se lo ricordava come suo grande maestro e lo ha invitato a rientrare in Angola usando delle sue relazioni. Cosicché immediatamente Daniel Giulio Cipenda ha viaggiato a Johannesburg è stato a Pretoria a Cape Town e ha consolidato l'offerta dei sudafricani con una prova di buona volontà rinviando i due sudafricani uccisi a Cabinda come prova della sua entratura con il governo di Edoardo dos Santos. Da lì nell'89 due anni dopo hanno firmato gli accordi di pace a New York a dicembre dell'89. Ci sono anche degli italiani che si mettono in mezzo ovviamente Pio e Maria Deiana ma insieme con un pezzo grosso allora dell'ADC della democrazia cristiana l'onorevole Flaminio Piccoli. Ah no questo è venuto subito dopo che io ho fatto un'azione della quale sono veramente orgoglioso sono stato a Nazareth a celebrare la pace tra il Sudafrica e l'Angola e ho usato di 53 54 palestinesi cattolici giovinelti che hanno rappresentato tutta l'Africa a Nazareth dove nessuno degli africani aveva una ambasciata naturalmente c'era presente solo l'ambasciatore italiano allora sulla forza di questo e con la forza del fatto che il Sudafrica aveva una relazione commerciale con l'Italia importantissima era uno dei primi partner economici ma politicamente non si conoscevano non avevano nessuna relazione con l'intervento di amici miei sudafricani come Ray Wilson dell'ambasciata sudafricana a Roma e Boshoff della Namibia che era dei servizi segreti sudafricani ho portato Ray Wilson a incontrare secretamente presso un ufficio amico Flaminio Piccoli che all'epoca era presidente della commissione degli esteri e in quell'ufficio di un beneamato avvocato De Gori Giuseppe De Gori si è fatto un accordo politico dove il presidente Flaminio Piccoli da statista avrebbe portato la commissione degli esteri multipartitica del Parlamento italiano in visita ufficiale in Sudafrica questo significava riconoscere e rompere il muro dell'apartheid ma chiedendo in pagamento che l'icona sudafricana di Mandela fosse riconosciuta come uomo politico ed è diventato il vero interlocutore della visita ufficiale facendo questo ma solamente perché Flaminio Piccoli aveva un conoscimento delle strutture e della situazione africana al di sopra della media ha sviluppato un'azione da statista e ha messo il presidente Mandela quale assoluto protagonista della storia del suo paese immediatamente dopo le elezioni De Klerk e il ministro degli esteri sono venuti a rendere omaggio al presidente Andreotti subito dopo nell'unica visita di come si dice riconoscimento e di relazione con l'Italia non sono mai più venuti in Italia i presidenti sudafricani ma quella volta è stato ufficiale è tutto a merito dello statista Flaminio Piccoli che una volta tanto la commissione piccoli arriva prima della commissione esteri del senato americano la quale è arrivata immediatamente dopo il sabato dopo quando noi stavamo partendo all'aeroporto non è che avessimo informazioni particolari ma mentre da Johannesburg c'era l'aereo che ci avrebbe riportato in Italia è arrivato l'aereo degli Stati Uniti della commissione del senato americano che si è preso ovviamente poi tutta la sì poi naturalmente sono stati i protagonisti eccetera e nessuno in questa occasione dei funerali del presidente Mandela ha mai riconosciuto il valore dell'azione del nostro governo perché perché non perché noi non siamo come si dice anche perché la la DC sembrava non esistere più non esserci più Flominio Piccoli un politico del passato invece fra l'altro forse la DC si sta rimuovendo me l'auguro me l'auguro io ricordo che ho cominciato nella DC nel 1953 e credo che ho avuto la fortuna di conoscere De Gasperi a Genova in piazza Vittorio nell'ultima volta che sia venuta a Genova secondo la mia conoscenza ma è stato un grande incontro che mi è stato fornito così gratuitamente il la visita del presidente Flominio Piccoli in Sudafrica ha generato una serie di altri avvenimenti e io sono riuscito dopo la pace tra Sudafrica e l'Angola a proporre al governo angolano di costruire un impianto per il trattamento di rifiuti teosici nocivi che avrebbero concorso a pagare la pace perché per comprare i fucili i soldi si trovano ma per comprare la pace mancano sempre i fondi e questo progetto era un progetto molto interessante dove già pensavo di coinvolgere all'epoca l'ansaldo ma la conferenza di Basilea ce lo ha impedito perché poi con la minaccia del trasporto dei rifiuti gli africani hanno reagito mettendo una legge equiparando i rifiuti tossici al riconoscimento dei confini geografici che non dovevano più essere messi in discussione cosicché dall'Africa sono partito e sono andato in Giappone a proporre la costruzione di questo business che comunque è un business che aveva e ha i suoi sbocchi commerciali e industriali in Giappone non è stato molto fortunato nel frattempo era successo la Tiananmen Square a Pechino e il primo leader occidentale che ha visitato Pechino è stato Giulio Andreotti come primo ministro dopo Tiananmen Square ancora 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 la dici ancora la dici in quell'epoca naturalmente ancora in quell'epoca sono andato nella scia del primo ministro senza avere nessuna relazione assolutamente e ho incontrato a Nimbo dove l'ansaldo aveva costruito impianti per a carbone altamente inquinanti una cosa piuttosto de passata ma seguendo quelle che erano le trattative possibili ho fatto la proposta di costruire l'impianto che avevo come progetto da scegliere o il Giappone o la Cina la Cina naturalmente mi ha aperto le porte sono riuscito attraverso relazioni a incontrare i capi dell'anno rinco che era ed è una delle aziende più importanti la terza azienda di stato cinese all'epoca per dare un'idea era almeno dieci volte liri come valore industriale e finanziario e naturalmente i cinesi erano d'accordo purché portassi un partner credibile mi sono ricordato che ero nato a Sesto e Levante e ho fatto la proposta a Lansaldo Lansaldo è interessatissima abbiamo firmato i primi accordi da Shanghai dal consolato di Shanghai ho fatto tradurre i primi accordi dal cinese in italiano con la partecipazione del console di allora che era un ingegnere nucleare pertanto molto ben preparato nel soggetto e tutto è andato bene finché nel 94 Lansaldo ha opzionato l'acquisto il 20% di una delle mie società come si dice nel match la Norinco ha richiesto l'opzione di comprare il 25% della mia società peraltro avevo tutta la finanza che si è tradotta potenzialmente dalla parte dei cinesi in 380 milioni di dollari a disposizione della joint venture per poter produrre il 15% che facilitasse il finanziamento secondo la legge Ossola legge Ossola che ha provveduto attraverso medio credito e depositato all'Efibanca 610 milioni di dollari a nome della mia società da spendere da spendere in ansaldo questo però non dopo aver organizzato un simposio a Pechino con 75 università di finanza di finanza dei fondi quando questi contratti che sono multiface sono diventati reali c'è stata naturalmente la realtà dei finanziamenti sulla base di quello organizzato a Pechino nel 1995 un simposium con 75 università cinesi 5 università italiane 6 o 7 banche e sotto l'egida dell'ambasciatore di allora a Pechino Quaroni Sua Eccellenza Quaroni era naturalmente con il suo corrispondente del Ministero degli Esteri cinese è stato una cosa il più grosso contratto di allora tra la Cina e l'Europa attraverso Genova ma non solo Genova pare che in qualche maniera era pure una certa nomisma abbia avuto 40 miliardi no no lì un altro una cosa del genere ha generato una è stato uno sciocco dal punto di vista finanziario industriale eccetera al punto che l'IRI ha dato ordine all'Alzardo di comprare la Volun da Copenaghen che era una ditta nata nel 36 prima nel mondo a trattare rifiuti tossici nocivi perché l'Ansaldo non aveva la tecnologia e l'hanno comprata al 100% ricordo che all'epoca il presidente della Volund ingegner Costa mi aveva dichiarato che solamente in Royalty avevano pagato 40 miliardi alla nomisma società di interazioni di relazioni eccetera di studi di ricerche di mercato gli hanno pagato 40 miliardi di lire all'ufficio dell'annomisma di Londra che mi pare fosse liderato dalla dottoressa Laura Prodi l'annomisma allora era famosa anche per delle ricerche che faceva sulla natalità degli asini in Africa pagate laudamente lo spessore lo spessore dei binari lo spessore delle ruote dei treni eccetera eccetera treni che naturalmente erano un argomento piuttosto a me vicino perché naturalmente io avevo sviluppato una mezza un progetto per un metro rail in Italia che avevo presentato era un momento prima del metro rail continuiamo ancora con il progetto come è andato a finire il progetto dell'Ansaldo finanziamenti da medio credito depositati nei Fibank per 610 milioni 380 milioni pronti dalla joint venture in Cina a favore del Norinco Yanwadei e Noriad finanziamenti ancora presenti perché nessuno li ha toccati con i contratti ancora validi sottostanti c'era qualcosa anche in Germania no cosa è successo nel 95 abbiamo fatto il simposio a marzo è stato controfirmato a Pechino tutti i contratti a giugno i cinesi sono venuti in Italia il 23 giugno e da lì siamo partiti per controllare la tecnologia Volund in Danimarca dove ho avuto tutti quei raguagli che le ho appena detto e naturalmente i cinesi entusiasti ritornano via Londra in Cina un mese dopo mi è arrivata una telefonata dai cinesi che mi volevano vedere a Pechino il primo di agosto ero a Pechino dove mi hanno informato che avevano dovuto pagare un prezzo politico al governo Dini che aveva mandato in missione segreta il presidente dell'ansaldo group di allora che aveva rotto unilateralmente il contratto organizzando la quale Banca Francoforte prima di rompere il contratto hanno portato tutta la documentazione alla Banca di Francoforte che sulla base degli accordi delle licenze sottoscritte dal governo cinese per l'environment project green project controfirmato e approvato dall'accademia delle scienze cinesi che era parte per il 5% nel progetto ecco il 25% contro il 20% dell'ansaldo e la Norinco voleva il 25% perché il 5% era a favore dell'accademia delle scienze che non poteva comprare che cosa succede? succede che su questa base l'Italia ha mandato una richiesta di finanziamento alla Labba Bank di Francoforte che gli ha fornito 500 milioni di marchi soldi che sono stati trasferiti immediatamente alla Prudential di New York e in Italia è rimasto solo il debito a danno dell'ansaldo che in quel preciso momento è stata messa in liquidazione io ho chiesto l'arbitrato con i vari Giacobbe professor Giacobbe Natalino Irti e compagni ma l'ansaldo era in liquidazione ed è venuto a rappresentare questi interessi dell'ansaldo in liquidazione un Sergio Maria Carbone professore titolare universitario di Genova che durante l'arbitrato poi è diventato presidente di Finmeccanica e ha sommosso tutta la storia in un modo che hanno venduto l'ansaldo in liquidazione hanno distrutto i barracconi con una decina di chilo di nitroglicerina li hanno rasi al suolo e hanno fatto i giardini dove c'erano 2000 persone a lavorare nello stesso tempo Dini ha dato in carico a Bruno Musso presidente dell'ansaldo group di sciogliere unilateralmente il contratto con Norinco che ha pagato il prezzo politico perché mi hanno chiamato mi hanno detto hanno chiesto un prezzo politico e noi abbiamo dovuto concederlo sull'affermazione che Bruno Musso sarebbe venuto a trovarti per liquidare la partita con te non l'ho mai visto a tutt'oggi fermo restando che io ho agito su quella base che mi era rimasto di chiedere un arbitrato dove appunto Natalino Irti e Combani sono venuti a dire che non si poteva decidere e io ho intrapreso tutte le pratiche legali sempre ma sempre come si dice esautorato cancellato archiviato senza nessuna soddisfazione finché nel 2000 abbiamo dovuto obbligatoriamente sottoscrivere un accordo che mi è stato imposto dagli avvocati infedeli naturalmente l'ho scoperto dopo e che naturalmente ho licenziato e denunciato una parte è stata piuttosto seria perché l'hanno come si dice c'è stata la causa all'ordine degli avvocati un'altra non ho insistito perché non valeva la pena di perdere tempo comunque io non ho mai smesso di rinnovare le mie richieste per giustizia ora si dà il caso che la causa sia attualmente dall'anno scorso ottobre in tribunale ecco questo è anche un altro discorso una causa che adesso viene diciamo fatta contro fin meccanica ma c'era anche una ragione di allora perché quando ai cinesi fu chiesto il prezzo politico di cancellare il contratto la fin meccanica che io avevo presentato durante il simposio a Norinco che non aveva mai avuto l'opportunità di incontrare prima fin meccanica si è presentata vicepresidente dell'anno Norinco e gli ha detto ma cancelliamo il contratto nel letteralmente del prezzo politico e noi rinnoviamo l'offerta e hanno fatto un protocollo di intesa a Singapore dove naturalmente tutto era mascherato da sette o altre sette o otto altre iniziative ma il mio progetto era il messo ed era al punto oggi come oggi dicono che non hanno nessuna responsabilità quando invece Ansaldo era proprietà della della fin meccanica è stata liquidata per conto di fin meccanica dagli avvocati di Ansaldo che erano membri del consiglio di fin meccanica e erano membri del consiglio dell'ansaldo allora e sono diventati presidenti di fin meccanica durante l'arbitrato per poter disporre di un valore che era all'epoca considerevole ed è stato predellino di lancio il primo governo Prodi del 1996 non è uno scherzo facile facile naturalmente io mi sono sempre sentito perseguitato dal fattore Prodi perché non sono mai riuscito secondo gli accordi del codice civile a trovare un sostituto dell'ansaldo per portare avanti il progetto in quanto chiunque ci fosse vocazionato e molti lo sono stati si trovavano davanti al potere Prodi che chiudeva la porta quando nel 2006 a un certo punto mi sono presentato perché avevo trovato il finanziamento indipendentemente dal mercato italiano c'è stato uno scherzo alla Prodi da Terni che era già stato martirizzato per le acciaierie di Terni messe in liquidazione eccetera con disastri che non sono ancora stati riparati in quella città ma il sindaco di Terni mi ha telefonato a Londra perché gli mandassi l'offerta finanziaria della fondazione che mi sosteneva all'epoca quando l'ho fatto dopo un po' ho scoperto che non erano qualificati per portarla avanti e ho mandato il season desiste commerciale per rompere qualsiasi relazione finanziaria l'hanno usata contro di me e hanno denunciato me e altri due in associazione a delinquere per la quale sono otto anni che sono in tribunale lei lo sa bene perché è venuto dottor Ratini e oggi penso che in aprile si chiuderà perché non c'è assolutamente la possibilità di dimostrare un crimine impossibile un crimine che sia solamente stato tentato noi siamo stati accusati di aver cercato di rubare 100 sottrarre 100 milioni di euro all'unicredit dei terni dove nessuno dei tre imputati ha mai avuto rapporti giuridici non solo posso dire che a me personalmente come giornalista quel giorno in cui ero presente a una delle udienze il sindaco stesso disse che effettivamente aveva telefonato lui alla questura perché gli era stato dato ordine dal suo conterraneo Micheli che era il sottosegretario al secondo governo Prodi così come lo era stato nel primo governo ex nomisma ex siri anche lui naturalmente in un club di associati e quando hanno sentito il nome di Deiana mettetelo in galera poi ne parliamo perché nel 96 nel 2006 si trattava due mesi prima delle elezioni che è stato vinto da Prodi per 20 mila voti e naturalmente in quel momento era strategico che io fossi fuori dalle palle naturalmente in quel periodo mi hanno venduto casa mi hanno chiuso tutti i conti sono diventato una persona scandalosamente impegnata in atti criminosi di cui non ho mai avuto modo o idea di partecipare perché nessuno di quelli imputati con me aveva né la capacità né l'intenzione né il desiderio né il bisogno di operare in un modo meno che lecito e la mia situazione oggi si a Terni si chiarisce perché il nuovo il nuovo l'altro senza averci guadagnato assolutamente nulla per carità ci hanno rovinato completamente ci hanno rovinato perché era un disegno politico di tenerci fuori dalla scena fermo restando che il padre eterno è grande mi ha sempre voluto bene io sono fortunato perché ho una pensione sociale di 450 mila euro che mi rende autosufficiente e per me tutte le crisi non esistono perché a me le crisi al di sotto di 450 euro non esistono veramente poco fa hai detto 450 mila euro le pensioni sociali sono di 450 comunque sono come si dice fortunato perché gli amici mi sostengono e penso che questa causa nel contesto del contenzioso con Fimmeccanica è più che giustificata l'obiettività che ho io di tenerla il più possibile fino ad oggi sotto controllo senza fare pubblicità è derivato dal fatto che con un contenzioso di 2700 2800 milioni di euro periziati e giurati in tribunale sarebbe il caso che Fimmeccanica si sedesse a tavola per discutere di come fare e io sono proprietario titolare di un contratto che metterebbe l'Italia a diventare di nuovo protagonista nel mondo perché un contenzioso tra stati di questo genere da origine a finanziamenti a compensazione all'1% che sarebbe una cosa spettacolare ci sono i governi che discutono sui mezzi punti quarter di punti i 10 miliardi i 5 miliardi i 2 miliardi bisogna far pagare l'UIMU la Tasi tutte sciocchezze bisogna inventare un contratto è un progetto che metta 3 milioni di persone a lavorare e metta il nostro paese protagonista senza essere schiavo sottomesso a culone senza meglio nominare i nomi al di fuori di questo da cui mi estraneo per quanto riguarda il discorso dei 3 milioni di persone c'è un progetto alle spalle no? assolutamente l'Italia è sacrificata dalle comunicazioni e dai trasporti noi abbiamo tutte le settimane 50 morti sull'autostrada ci sono migliaia e migliaia di persone che tutte le settimane perdono un amico un fratello un cugino un figlio un padre mentre se noi provocassimo trasporti intelligenti tipo quello che gli italiani hanno fatto a New York dove il metro è con 110 anni il miglior mezzo di trasporto che esista nello stato di New York e serve un traffico che è primo nel mondo noi potremmo fare lo stesso in Italia sviluppando il metro italiano naturalmente non è avveniristico è un progetto che si può realizzare e usando quel progetto sotto sottoterra valorizzare i 50 metri di 2000 anni di civiltà che diventerebbero un museo alla vista senza essere sotterrato e libererebbe le autostrade e le strade dalle ferrovie e dal traffico pesante mettendo l'Italia consolidando il territorio sviluppando il turismo sviluppando l'industria leggera il paesaggio la sicurezza in uno sviluppo dove davanti a un progetto del genere il debito pubblico diventano spiccioli e si esaurisce in un attimo e mettendo gli 80 miliardi di interessi buttati nella spazzatura senza nessun uso che l'Italia paga per il suo debito pubblico all'anno 80-100 miliardi a frutto dello sviluppo del progetto Poiché il progetto sarà trattato in un'altra conferenza in un'altra ci sarà una conferenza in cui presenterete questo progetto e ci sarà un'altra intervista ma intanto possiamo dire che ci sono forze nuove che sono interessate a questo progetto i finesi ancora una volta Io naturalmente in visione di usare il contenzioso intelligentemente non contro ma a favore di Finmeccanica che è un'azienda di Stato di cui tutti gli italiani sono orgogliosi chissà non può non essere orgoglioso ho pensato a come attraverso una compensazione si poteva risolvere il problema del contenzioso intelligentemente ora i cinesi sono altrettanto interessati naturalmente non hanno nessun interesse a entrare in beghe tra stati perché sono molto più intelligenti però sono dispositissimi a trattare il contenzioso per lo sviluppo del progetto che li coinvolge perché fare un metro coinvolge delle forze tali per cui bisogna trovare i capitali dove sono e io ho fatto un accordo di massima che naturalmente è venuto in Italia anche al ministro Passera del precedente governo dalla China Railroad la quale è venuta a dire ma abbiamo un progetto che ci è stato presentato perché non lo sviluppiamo insieme a me hanno detto tutta la forza lavoro tutti i capitali necessari non li dovete cercare li abbiamo noi naturalmente sono capaci sono oggi come oggi la fonte principale e quando il ministro Monti è andato in Cina per ordine del primo ministro tedesco a cercare di vendere i bond prima della grande bufera è andato là ma noi avevamo favorito il ambasciatore italiano a Pechino perché informasse il primo ministro Monti che per vendere i bond prima doveva risolvere il contenzioso quando lui significa prima di vendere la fine meccanica ai cinesi prima di vendere la fine meccanica la telecom le poste le spiagge del litorale eccetera tutte queste sciocchezze che fanno pensare a un qualsiasi cittadino che ha messo da parte un euro per risparmio e quando ha speso quello che cosa farò la prossima volta beh in quel caso gli abbiamo detto prima bisogna risolvere il contenzioso lei parli del contenzioso i cinesi le forniscono non lo ha fatto è andato dai cinesi perché dicendo all'ambasciatore che quello era un progetto di prodi che non è assolutamente vero ma questo dimostra che siano tutti informati di quelli che sono la realtà dietro il contenzioso è tutto a danno mio e naturalmente c'è una differenza io ho portato la mia piccola parte di operazioni prodi è stato il dissipatore il liquidatore il dispensatore del prodotto IRI ai suoi amici dove come impiegato dello Stato non aveva possibilità di disporre delle fortune che condizionano il nostro paese ha inventato la banca di Shanghai la borsa di Shanghai con lo stesso personaggio che ha firmato il protocollo di Singapore tra Finmeccanica e Norinco gli avvocati che rappresentano la Finmeccanica in tribunale dal giudice Persico credo di citarlo bene correttamente se non lo è mi scuso perché non ho i documenti con me che si dovrà avere sentenza il 24 di maggio credo sono gli stessi avvocati che hanno creato il gli arbitrati del 98 l'accordo del 2000 e sono sempre gli stessi che dicono che Finmeccanica non ha niente a che vedere con questa struttura che è stata inventata da Finmeccanica amministrata da Finmeccanica come l'ascito IRI il contratto Cina Ansaldo attraverso delle mie compagnie è stato autorizzato a voce per telefono dal presidente dell'IRI Romano Prodi all'amministratore delegato Gian Maria Gabrielli dell'Ansaldo ero presente con la delegazione dell'Annorinco nella stanza a fianco e l'amministratore delegato dell'Ansaldo in quell'occasione con un accento che cercherò di riprodurre il genovese ha detto Sio Deiana Sialafetto 13 oggi lei signor Deiana ha fatto 13 perché con la firma di questo contratto naturalmente si trattava di un contratto all'epoca di 786 milioni di dollari per cui i 610 milioni che erano l'85% depositati a EFI Bank e spariti insieme con gli altri 500 dell'Aela Bank esattamente e quando nello stesso periodo arrivarono stranamente in Prudential a New York una cifra simile e si che poi naturalmente con la firma di un impiegato volento o non lente sono stati dirottati è logico non solo non solo certo ma tutto le garanzie all'elaba bank gliel'ha dato al tesoro all'epoca il ministro del tesoro si chiamava Ciampi il direttore generale si chiamava Draghi sono tutte cose registrate tutte cose documentate le interpellanze che sono state fatte in senato dai senatori Meduri e company sono tutte registrate sono tutte ufficiali quello che le dico non ho soggezione a dirlo con grande tristezza perché trascende la mia persona ma qui è un paese in crisi che può essere risolevato nel colpo di un dala di una decisione che si può fare in tre giorni e andare a valorizzare quello che è il nostro patrimonio senza doverlo vendere senza doverlo perché l'esperienza del vendere il patrimonio dello Stato ce l'ha già data a Prodi con liri quante volte si può vendere il prodotto mi sembra che c'è anche un'altra prova diciamo dell'interesse dei cinesi per l'Italia quando arrivarono in Sicilia no? Allora le cose bisogna farle a porzioni dunque io ero a Pechino e parlavo del metro e quelli dicono ma noi se abbiamo ragione ci sono delle società ci sono delle regioni autonome che sono più veloci per prendere decisioni autonome e naturalmente davanti a questa affermazione io non sono molto preparato ma fino a lì ci arrivo la Sicilia è una regione autonoma sono stato con un'offerta che è arrivata direttamente da Pechino per 5 miliardi di euro al governatore adesso lei mi aiuta a trovare il nome perché non mi ricordo quello che è andato in prigione quello che è in prigione sì è un galantuomo che lavorava 26 ore al giorno e l'offerta da 5 miliardi gli è arrivata direttamente io sono venuto da Pechino e sono andato a Palermo mi ha ricevuto forzatamente mi hanno spinto dentro nell'ufficio che doveva andare in assemblea a parlare di bilancio e dice non posso parlarne gli dico guardi che io sono messaggero di 5 miliardi a favore del ponte e in quel momento ho trovato di nuovo la stessa obiezione Prodi non vuole e gli dico governatore Cuffaro Sasa bacia tutti sì sì il governatore Cuffaro abbia pazienza la politica si fa in due modi o la fa o la subisce comunque se Prodi non vuole il ponte mi permetta di andarla a dire ai cinesi e permetta che prendano loro la decisione perché i soldi non sono i miei sono andato in Cina e quelli mi hanno rispedito vai di nuovo a Palermo e io sono venuto il giorno che hanno inaugurato il nuovo cardinale arcivescovo allora di Palermo entro nella chiesa e c'era il senatore Mannino che era presente c'era il sindaco Orlando l'ex sindaco Orlando c'era il governatore il quale si è staccato dal gruppo e mi è venuto ad abbracciare in un tutto zuppo di pioggia ho protocollato l'offerta e l'offerta era di 10 miliardi per la costruzione delle infrastrutture nei due versanti in funzione del ponte in Sicilia e in Calabria il finanziamento da 5 miliardi è diventato di 10 miliardi ma non per il ponte prima di tutto per le infrastrutture perché senza infrastrutture il ponte era logico che non potesse funzionare ma queste sono cose fatte da ingegneri io sono stato solamente il messaggero quando è arrivata questa offerta mi ha preceduto io sono arrivato il governatore mi ha abbracciato per dirmi l'ho protocollata dopo un po' è andato in galera purtroppo lui è andato in galera a Terni e lui è andato in galera a Revivio è un modo normale in Italia per liberarsi delle persone che danno fastidio io non io le garantisco che la mia terza giovinezza non vorrei dare fastidio non ho mai pensato di dare fastidio mi piacerebbe partecipare a fare qualcosa di positivo e non faccio né l'avvocato né il giudice ognuno è padrone di quello che vuole però io credo che sia abbastanza ricco ma può darsi che lo facciano Presidente della Repubblica non ho nessuna nessuna cosa contro di lui io alla mattina prego per lui e alla sera prima di dormire prego che lui riesca a conservarsi ricco e in salute fermo restando che io continuo la mia lotta bene quindi siamo sicuri che Pio Maria Dejana continuerà nelle sue denunce di cui è ovviamente strasicuro della vittoria e arrivederci alla prossima intervista che svelerà cos'è il metrorail ok grazie mille grazie alla prossima